Bella ragazzi, qua è Ghiotto, buon inizio settimana a tutti, settimana che ci avvicina al Natale ma soprattutto a Milan-Lazio di mercoledì, no perché non abbiamo ancora finito di godere per la partita di ieri, vi lascio il video post partita se ancora non l'avete visto di Napoli-Lazio, scusate Lazio-Napoli 2-0 che già siamo a pensare a Milan-Lazio mercoledì e poi ecco la settimana che ci porterà le feste natalizie, io questa settimana lavoro di pomeriggio quindi potrò vedere le partite alla sera, lavorerò fino a mercoledì e poi ci sarà questo diciamo ponte per le vacanze di Natale, quindi lo dico anche con un sorriso, sono contento di stare un po' a casa, anche se sì sappiamo la situazione che stiamo vivendo, non potremmo uscire però vabbè, fa niente, le feste, comunque il Natale è sempre per me uno dei momenti più belli dell'anno, anche quest'anno dai. Comunque signori, allora ieri sera parliamo ancora un pochettino della partita, ho visto un po' i voti che hanno dato i giornali, voti diciamo tutti positivi, ieri l'ho detto, la Lazio l'ha preparata bene la partita e la Lazio ragazzi non raccontiamoci favole, non è una squadra in grado di vincere 5-6 partite consecutive, quindi per il quarto posto noi proveremo a lottare fino alla fine sapendo che c'è tanta concorrenza, ad esempio il Napoli è una squadra che considerando che ha l'Europa League, che forse è comunque meno impegnativa della Champions, anche se giocano di giovedì, lo sappiamo, anche l'Europa League non è facile, ha una rosa in effetti forse più ampia della nostra, quindi comunque la concorrenza è tanta, guerrita, però noi ecco, io vedo una squadra che comunque l'impegno ce lo mette, il cuore ce lo mette, un allenatore comunque che secondo me ad esempio rispetto a Gattusi, Inzaghi è superiore, l'ha dimostrato anche ieri sera, noi l'abbiamo preparata bene la partita, i ragazzi sono impegnati, sono giocatori che si stanno anche calando magari in ruoli in cui non sono proprio loro, mi viene in mente comunque Marusic ad esempio, che è un giocatore che si è trovato in difficoltà le prime partite a sinistra, però si è sempre impegnato, si è messo a disposizione, sicuramente sono schemi quello del gol di ieri che provano in allenamento come ha detto Marusic nell'intervallo, ieri Marusic ha fatto una partita di quantità come al solito, ma anche di qualità perché l'assista Ciro Immobile è veramente bello e poi vabbè il solito Ciro ragazzi che ormai è una sentenza però ecco, la Lazio è una squadra che sta giocando meglio con le grandi quest'anno, noi stiamo trovando difficoltà con le squadre piccole quindi non raccontiamoci le storielle che la Lazio quando vuole gioca bene, quando no, quando non vuole gioca male perché allora se i ragazzi non si impegnassero a volte sarebbe ancora più grave, allora avremo bisogno di un mental coach invece la Lazio, se noi andiamo a vedere le partite che ha perso, a parte con l'Atalanta che è stata una partita storta con le big comunque ce la siamo sempre giocata, come è successo ieri abbiamo vinto abbiamo perso partite non a caso con Samp, con Verona ad esempio, con Benevento abbiamo pareggiato squadre che si chiudono, che ti aspettano, perché si aspettano che tu Lazio fai la partita e noi con gli spazi chiusi troviamo difficoltà la Lazio è una squadra che ieri porta un pressing alto, infatti ieri il gol è il secondo gol certo c'è l'errore di Mario Rui ma non è un caso, voi guardate come erano posizionati i giocatori della Lazio erano già pronti al contrattacco, occupavano tutte le situazioni di campo infatti la Lazio è scalante, ha recuperato palle, immobile, inserimento a Luis Alberto subito quindi non è una cosa casuale, non è che Mario Rui certo ha sbagliato ma la Lazio era già subito pronta e spesso la Lazio fa gol in questo modo diciamo recuperando palle in contropiede facendo gol e poi finalmente abbiamo fatto un gol dalle fasce laterali perché l'ho detto, noi crossiamo troppo poco, crossiamo male caso strano, ieri due cross belli, uno di Lazari e uno di Marzic due volte immobile, una volta ha fatto gol e una volta per poco non fa gol quindi non è un caso, noi dobbiamo andare più sull'esterno sfruttare questo modulo perché il 3-5-2 giocando con gli esterni molto larghi è fatto apposta per questo noi purtroppo questo gioco lo facciamo male anche a causa dei nostri esterni che non sono proprio delle aquile, ecco, mettendo un animale a noi comune e quindi ecco, non è un caso che ieri comunque abbiamo vinto perché il Napoli ti concedeva, il Napoli poi ha provato a reagire la partita si è messa bene perché 1-0 e noi potevamo aspettarli in contropiede e poi un errore che ha fatto il Napoli che non ha messo un uomo su Milinkovic Savic infatti se avete notato, ieri Milinkovic Savic ha toccato tanti palloni noi spesso ci appoggiamo a lui per esempio il Verona, Juric che è un allenatore superiore tatticamente non ci paragona a Rino Gattusa anche se ringhi uno ci mette grinta un grande uomo però come allenatore per me è limitato Juric ha messo un uomo lovato su Savic e noi siamo andati in difficoltà quindi vedete i dettagli, io li vedo queste cose qui quindi la Lazio non è un caso che con le big magari riesce a fare qualcosa in più invece con le piccole va in difficoltà purtroppo quest'anno c'è questa difficoltà e dobbiamo cercare di trovare una soluzione però sugli esterni come detto abbiamo trovato questo Marusic ieri molto bene però c'è il problema Fares che dicono appunto sia un lungo stop e tutto rientrerà penso metà gennaio tra l'altro Fares abbiamo visto che non dà garanzie e io dico allora se io lo so che il presidente purtroppo a gennaio secondo me non vuole spendere dico Kine, cioè Kine è tesserato della Lazio io ad Auronzo l'ho visto, è un giocatore tra i nostri esterni quello tecnicamente più bravo forse in fase difensiva non è il massimo, dicono un po' leggerino però anche Lazio è leggerino voglio dire solo giocando secondo me può trovare la giusta forma Kine, la confidenza ovviamente con i compagni e col modulo io non lo so come mai Kine è stato escluso io ad Auronzo l'ho visto, è uno di quelli che ha figurato meglio e dico piuttosto che non prendere nessuno a sinistra va bene Marusic che sta facendo abbastanza bene però non possiamo fidarci a Marusic, ci sarà solo a Marusic ci sarà anche la Champions League Matic si infortuna Marusic, cosa facciamo? giochiamo con Diava Anderson, che è un giocatore cioè non da Lazio ragazzi, se vogliamo puntare ad alti livelli quindi si parla di Gomez dentro Gomez, fuori Caicedo io non lo farei, vi dico la verità cioè Gomez è un grande giocatore, ci mancherebbe però privaci di Caicedo ci serve una punta di peso aspettando Murici che deve ancora entrare spero lo farà presto però, se arriva Gomez ragazzi, uno deve andare via quindi, se mi dite che va via Caicedo io non sono d'accordo Caicedo deve rimanere perché ci manca ci serve un giocatore così ieri l'abbiamo visto, Immobile con Caicedo forse gioca ancora meglio che con Correa in tante partite quindi, anche la Fiorentina Tare l'ha smentito la trattativa con Caicedo meno male, meno male si parla di Duncan per Caicedo ma a centrocampo ci serve Duncan? no, Duncan sì potrebbe andare bene, un giocatore di quantità ma non ci serve in questo momento anzi, a centrocampo abbiamo tanti giocatori in esubero anche se andiamo a vedere Cataldi che non gioca mai anche se stiamo trovando un escalante che sta facendo molto bene quindi, io dico Kine, piuttosto, cazzo, prendiamo lui no, tanto è già della Lazio è anche un giovane a meno che Lulici non torni ma io, su questo, ho sempre molti dubbi comunque vediamo un attimo a Milan-Lazio allora, io ho quale formazione dovrebbe essere la stessa che ha giocato ieri che ha fatto bene e io sarei abbastanza d'accordo perché dico tanto è l'ultima partita poi c'è la sosta quindi poi si possono riposare quindi a meno che non c'è qualche acciaccato diamo continuità agli stessi giocatori vediamo se Acerbi recupererà ma la vedo dura dal primo minuto c'è in dubbio Correa Lucas Leiva non ci sarà 99 su 100 quindi la formazione è questa in panchina comunque hai dell'alternativa e Correa cioè Correa bisogna vedere se recupera Murici Akpapro Catali Pereira che anche ieri è entrato quindi ecco Patrick in difesa quindi io sono d'accordo di confermare gli stessi visto che comunque hanno fatto bene col Milan sta una partita più difficile il Milan è più solido secondo me del Napoli è più in forma nonostante le assenze il Milan ha molta assenza io leggo qua Gabby Kirben Aseri Ibraimovic quindi comunque forse anche che si squalificato ecco bisogna io dico se vogliamo arrivare quarti bisogna vincere anche a Milano so che non è facile però ecco cerchiamo comunque almeno la prestazione di falla il Milan giocare col 4-2-3-1 Donnarumma Calabria Calulo Romagnoli Teo Krunic Tonali Salemekas Cialanogolo Augu e Leao e attenzione perché noi con i giocatori veloci in avanti andiamo in difficoltà non avranno la punta classica che farà da boa quindi per noi sarà ancora più difficile secondo me quindi occhio il Milan è una squadra che per caratteristiche ci metterà in difficoltà e occhio gli esterni c'è Maros e c'è Lazzari io dico sempre devono cercare di attaccare e di puntare l'uomo ma secondo me mercoledì devono più difendere che attaccare perché loro sulle fasce avranno la superiorità numerica da una parte Calabria e Salemekas sono molto veloci magari hanno un po' meno tecnica però molto veloci rispetto a dall'altra parte Teo e Aug che sono sì veloci devastanti ma hanno grande tecnica quindi occhio quindi Lazzari e Maros ci saranno fondamentali dovranno aiutare molto in fase difensiva quindi in fase di comunque di non possesso giocheremo con la difesa 5 5-3-2 e poi ecco cercheremo di ripartire in contropiede io penso che la partita proverà a farla al Milan nonostante le assenze e noi secondo me in contropiede è una partita che tatticamente possiamo affrontare affrontare bene io sono comunque ottimista per mercoledì poi sai da qua a vincere in campo ci sono anche gli avversari perché poi noi possiamo anche giocare bene ieri per dire abbiamo giocato bene noi ma il Napoli ha giocato molto male quindi c'è sempre il contraltare quindi vediamo mercoledì sarebbe bello chiudere questo prima parte di campionato con una vittoria che non è stata positivissima però se guardiamo la classifica non siamo distantissimi dal quarto posto c'è molta concorrenza c'è molto equilibrio perché ci sono otto squadre più o meno sullo stesso livello a parte forse secondo me la Juve che alla fine ha qualcosa in più delle altre l'Inter anche in teoria però noi ci siamo dai diciamo di Riffa e di Raffa la Lazio c'è e niente ragazzi commentate con la vostra opinione like al video ditemi cosa ne pensate di questa mia ipotesi che ho lanciato chi ne potrebbe essere l'uomo giusto a sinistra uno serve a parer mio e dai ok like al video mi raccomando iscrivetevi al canale domani ci sarà il video sulla Juve penso alla sera giocherà la Juve e poi mercoledì ragazzi chiuderemo in bellezza con Mila Lazio signori bella grazie